Gonzalo Higuain, soprannominato El Pipita, ha avuto un impatto significativo durante il suo periodo con la Juventus. Dopo il suo trasferimento dal Napoli nel 2016, Higuain ha contribuito a continuare la dominanza della Juventus in Serie A. Durante il suo tempo in bianconero, ha vinto tre titoli di Serie A nel 2017, 2018, 2019, due Coppe Italia nel 2017, 2018 e una Supercoppa Italiana nel 2018. In termini di realizzazioni personali, è stato il capocannoniere della Serie A nella stagione 2016 con 36 gol, anche se questo è stato mentre giocava per il Napoli. Con la Juventus, Higuain ha segnato un totale di 48 gol in 105 presenze in tutte le competizioni, mostrando la sua abilità di essere decisivo nei momenti chiave. La sua presenza in campo non era solo misurata dai gol, ma anche dall'influenza che aveva sul gioco, contribuendo alla costruzione dell'attacco e fornendo assist ai suoi compagni di squadra. Nonostante alcune critiche, soprattutto nelle competizioni europee, il contributo di Higuain alla Juventus è stato fondamentale per il successo del club durante quegli anni.